camminare è qualcosa che mi è sempre piaciuto sin da piccolo e poi da grande ne ho fatto una passione che ben presto è diventato uno stile di vita anche nel mio lavoro il bello di viaggiare camminando è che puoi scoprire luoghi non molto distanti alle città ma davvero unici e da vivere a pieno e infatti ho passato gli ultimi anni a girare gran parte del mondo camminando scoprendo posti incredibili e spesso inaspettati ma ogni volta che torno nella mia sicilia con i miei posti preferiti da rivedere da camminare ancora una volta ho imparato che nella vita è più bello avere cose da ricordare che da dimenticare e la sicilia come il suo mare non si dimenticano mai non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.